Sbercheranno martedì 13 agosto alle ore 5 i 65 migranti tratti in salvo dalla nave Life Support di Emergency che ha effettuato un secondo soccorso nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 9 agosto dopo il primo salvataggio realizzato nella notte tra l'8 e il 9 agosto portando in salvo altri 28 naufraghi in acqua internazionali della zona Sarmaltese nel Mediterraneo centrale. Nelle due operazioni come detto sono state soccorse portate al sicuro a bordo in totale 65 persone. La segnalazione del secondo caso di imbarcazione in difficoltà fanno sapere da Emergency è arrivata ieri intorno alle 10 del mattino e la Life Support a cui era già stato assegnato Ortona come porto di sbarco ha fatto subito richiesta di poter cambiare rotta per recarsi al nuovo caso segnalato. L'imbarcazione un gommone sovraffollato inadatto a compiere la traversata del Mediterraneo è stata individuata dal ponte di comando della Life Support alle 19.45 circa di ieri venerdì. Sono quindi iniziate le operazioni di soccorso che sono terminate alle 20.40 con il trasferimento di tutti i naufraghi al sicuro a bordo. Entrambi i casi erano stati segnalati spiega la capomissione della Life Support. La prima operazione di soccorso è stata realizzata nella notte una barcha in vetro Raisina con 37 persone a bordo di cui un minore non accompagnato. Una volta completato l'intervento abbiamo ricevuto l'indicazione di Ortona come porto di sbarco da parte delle autorità italiane. Dopo aver ricevuto una seconda segnalazione di una barcha in pericolo abbiamo ricontattato le autorità che ci hanno accordato il permesso di ritardare l'arrivo al porto assegnato. I naufraghi soccorsi nel secondo intervento della giornata sono 28 di cui una donna, tre minori accompagnati, tra cui un bambino di tre anni e sei minori non accompagnati provengono da Siria, Egitto, Eritrea e Bangladesh, da dove oltre alla Siria e l'Egitto sono scappate le 37 persone soccorse con il primo intervento nella giornata di ieri. Erano tutti molto provati da tre giorni di navigazione, racconta l'infermiera a bordo e responsabile delle attività cliniche della Life Support. Dopo aver completato il soccorso e aver informato le autorità competenti alla Life Support è stato confermato il porto di Ortona come sbarco dove l'arrivo è previsto per il 13 agosto. Come anticipato dal vice prefetto di Chieti, Braga, per Ortona si tratta dell'undicesimo sbarco di un'afraghi.